Ciao, benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Floriana e sono direttrice senior di Faberlic e oggi è iniziata la campagna numero 4, quindi è iniziata oggi il 21 febbraio e terminerà il 13 marzo ed eccola, quindi questa è la nuova campagna che è presentata da questa attrice che si chiama allora vediamo come si chiama, Merini Uzerlin, dove appunto fa da testimonial di una linea di Faberlic che adesso vi mostrerò, per chi desidera iscriversi in questa campagna riceverà un bellissimo regalo di benvenuto cioè questa palette di rossetti insieme a un mascara, queste entrambi hanno il valore 22,48 euro quindi è un bellissimo regalo, basta quindi iscriversi a Faberlic, effettuare un ordine minimo di 18 euro per poi riceverlo nella campagna successiva con un ulteriore ordine, questo bellissimo regalo di benvenuto puoi iscriverti a Faberlic anche semplicemente come autoconsumo oppure perché no, puoi anche far conoscere dopo che li hai provati, puoi far conoscere i prodotti anche alle vostre amiche, ai vostri parenti, a chi desiderate quindi se volete informazioni, volete anche voi conoscere questa magnifica azienda e iscrivervi a Faberlic, io lascio come sempre in infobox tutti i miei riferimenti così vi potete contattare bene, allora, vediamo un po' questa attrice che presenta questa linea e fa da testimonio in questa linea che già è presente da un po' di tempo la linea Dream Therapy è una linea particolare perché contiene la melatolina incapposulata eccola questa linea qua che è già uscita da un po' di tempo in questa linea comprende, ci sono tutte sia le creme per il viso, creme per il corpo, dentifricio quindi serve per le persone che hanno problemi quindi a dormire in maniera serena ecco, c'è anche la candela profumata ci sono tanti tanti prodotti interessanti di questa linea addirittura ci sono alcune mamme che la sera spruzzano perché c'è anche l'odorante per l'ambiente spruzzano questo nella cameretta dei loro bambini e i bambini dormono in maniera proprio serena tutta la notte perché tanto sono dei prodotti che non fanno assolutamente male per l'ambiente per noi adulti e per bambini che li respiriamo quindi è una cosa interessante poi le novità che ci sono in questo catalogo è questa linea di stole eccole qua, queste stole con dei colori primaverili quindi questa è una novità di questa campagna poi continua invece la nuova collezione ecco la nuova collezione con dei colori primaverili che è uscita già nella scorsa campagna che comprende questa bellissima palette che l'ho presa, ha dei colori stupendi poi ci sono dei luci da labbra questo è invece una crema del viso colorata poi ci sono i rossetti, tatuaggi per il viso e per le unghie eccoli qua ci sono tanti prodotti interessanti con questi colori primaverili come gli smalti hanno il colore del rosa lilla e poi ci sono queste matite per gli occhi e liner tutti con questi colori bellissimi della primavera poi ci sono sempre dei tantissimi set in promozione con dei prezzi veramente vantaggiosissimi come questo set che ci permette di prendere un mascara a nostra scelta è un rossetto e questo set costa solamente 7,99 euro eccolo qua si possono scegliere tra questi colori un rossetto che a noi ci piace e uno di questi due mascara quindi questo set lo pagheremo 7,99 euro prezzo da catalogo ma se siamo iscritti abbiamo subito il 20% di sconto poi un'altra novità che c'è in questa campagna è praticamente hanno creato un blocco sostituibile del cusciotto che già era presente anche questo questo fantastico fondotinta con lo specchietto e la spugnetta hanno creato il blocco sostituibile cioè in pratica quando finiamo il fondotinta anziché buttare tutta la confezione possiamo sostituirlo e qui ci sono anche le istruzioni che ci spiega come fare e anche qui dal catalogo ci parla del fatto che questo blocco sostituibile non è solo un modo piacevole per risparmiare denaro è anche un passo importante verso il consumo consapevole e la cura dell'ambiente quindi un modo appunto per non inquinare più di tanto poi allora nella palette che già era anche questa uscita un po' di tempo fa questa era una palette con dei colori opachi dove noi possiamo scegliere e crearci la palette che più ci piace come si vede qui noi possiamo comprare delle cialde e comporla noi la palette ogni palette puoi inserire 4 cialde a tua scelta ecco ora Fabel che ha aggiunto altre colorazioni altre 3 cialde che in questo caso sono satinate satinati questi i colori quindi ecco sono ogni cialda 1,79 euro anche hanno dei prezzi molto interessanti e molto convenienti quindi si è aggiunta alla collezione di questa palette altre cialde poi ci sono sempre tantissimi prodotti super scontati come queste creme per il viso a base di fiori ci sono le creme per ogni esigenza per ogni tipo di insomma tipologia di viso poi un altro prodotto che è uscito che è questo di recente è quest'acqua minerale alle alghe marine della linea Oceano questa io l'ho già acquistata una settimana fa e da una settimana che la sto utilizzando questa acqua qui idrata il viso si può utilizzare sia sul viso che sul corpo e sui capelli quindi questa si utilizza prima e quindi di mettere appunto le creme per il viso e il siero quindi prima di qualsiasi crema si spruzza quindi al suo erogatore a spray questo prodotto che idrata moltissimo la pelle è rinfresca, è bellissimo questo sarà utile anche per l'estate questa è una linea francese questa è la linea Oceano ma è una linea molto interessante poi come dicevo ci sono tantissime creme ma io mi soffermo soprattutto sulle novità come anche quest'altra novità che c'è in questa campagna è questa spazzola per il corpo per il massaggio a secco eccola qua questa è la spazzola in particolare come si fede da questa figura insomma per tutte le parti del corpo serve appunto per massaggiare il corpo ed è abbinata volendo a questa linea della linea expert dove ci sono le creme anticellulite c'è anche questo nuovo scrub attivo tonificante anticellulite quindi si può anche abbinare a queste creme anche se questa è proprio a secco quindi da utilizzare da solo questa spazzola da sola è in legno di faggio quindi è interessante anche questa novità poi andiamo avanti sempre tantissimi tantissimi sconti su qualsiasi genere allora per esempio ci sono come novità questi prodotti per la cura delle unghie ci sono per esempio uscito l'acetone che prima non c'era quindi solvente per eliminare lo smalto poi ci sono gel che cura all'olio di argano e vitamina C e vitamina E scusate cura le cuticole poi c'è gel emolliente per bagno e manicure piedicure ecco il qua le faccio vedere queste sono le novità di questa campagna tutti questi prodotti che poi si aggiungono a già un'altra linea che già era presente di prodotti sempre per la cura delle unghie in base al nostro problema che abbiamo per le unghie ci sono dei prodotti specifici tra cui anche un olio che serve per curare le cuticole insomma ci sono tanti prodotti come rinforzante anche per le unghie poi ci sono in super offerta questi pennelli di Faberlic che sono fantastici hanno delle setole super morbidi quindi se se ne acquistano due si prendono con il prezzo in giallo quindi sono veramente convenienti in questa campagna poi vediamo un po' cos'altro ho evidenziato poi c'è lo super sconto del 40% della linea Aromio ecco la linea Aromio dove ci sono dei prodotti tipo candelio degli spray profumati per l'ambiente e questi sono la particolarità di questi prodotti hanno degli oli essenziali naturali e servono per appunto effetto energizzante oppure rilassante in base a quello che noi scegliamo quelle fantastiche candele profumate e hanno la particolarità appunto visto che sono aromaterapia ecco di fare un effetto di benessere per il nostro corpo poi continua questa nuova azienda Beyoncé che adesso dalla scorsa campagna in poi insieme a Faberli che collaborano insieme è una linea francese è stata proprio creata da questa signora che è una dal laboratorio Beyoncé è stato fondato nel 2003 in Francia e questa appunto è una dottoressa in scienze farmaceutiche ha creato lei questa nuova linea Beyoncé questa linea Beyoncé che è una linea per le persone che amano il bio infatti è una linea molto bio e ha tantissimi prodotti di origine quasi al 100% naturale alcuni hanno al 98,8% naturale alcuni prodotti proprio sono di origine naturale al 100% eccoli qua ci sono delle creme creme per il viso piano piano man mano che andremo avanti con le campagne aumenteranno la linea di tutti questi prodotti già ce ne sono diversi ma appunto sicuramente aumenteranno andando avanti ecco ci sono tanti altri prodotti che ancora io non conosco però ho cominciato ad acquistare a ordinare qualche prodotto che fra poco mi arriverà nel prossimo pacco come per esempio c'è questo siero stimolante per la crescita dei capelli questa 98,94% di origine naturale eccolo qua quindi poi ci sono questi cioè la tavolozza con i colori di questi tinte per i capelli a 100% naturale sono le n eccoli qua poi quest'altro c'è in particolare da mostrare allora ci sono al 100% proprio naturale ci sono questa linea eccoli qua di olio per la cellulite non di cellulite crema e olio sono questi proprio al 100% naturale quindi per chi appunto come dicevo prima ama i prodotti bio questa è un'occasione per poterli provare poi altri prodotti novità in questa campagna della linea expert pharma ci sono questi deodoranti anti-spirante sono particolari perché hanno una lunghissima lunghissima tenuta eccoli qua in pratica qui addirittura c'è scritto 4 giorni io ancora non li ho ordinati perciò non lo so però di solito questa linea è una linea veramente particolare la linea parafarmaceutica sicuramente come dice qua sarà vero quindi come ci prometti dice al 100% sicurezza quindi chi ha anche problemi di una forte sudorazione questi ligni possono essere proprio d'aiuto questi deodoranti c'è anche a spray oltre all'orlon poi vediamo un po' cos'altro c'è ci sono sempre tantissime promozioni ma io appunto mi soffermo su le novità ecco ci sono tante promozioni come questa linea super profumatissima della linea beauty caffè dove comprende gel doccia bagno schiuma saponi per le mani creme per le mani mousse per il corpo balsamo labbra sono super in offerta sono profumatissimi buonissimi veramente questi prodotti poi vediamo cos'altro ho evidenziato perché ho fatto dei segnali per trovarli subito le pagine che volevo mostrarvi così per non perdere troppo tempo allora un'altra novità ecco tutta questa linea nella linea casa anche questa con prodotti con la stampa primaverile e colori primaverili questo gremiule il portapane quest'altro panno da cucina insomma tutta questa nuova collezione primaverile con colori primaverili quindi questa è una novità di questa campagna come è anche una novità di questa campagna l'organizer per poter sistemare adesso che arriverà il periodo del cambio di stagione i nostri vestiti negli armadi eccole qua ci sono vari organizer con diverse misure e con dei colori bellissimi eccole qua color lavanda poi c'è questo verde sono tutti questi organizzi molto carini e utili soprattutto e quindi queste fanno parte della novità di questa campagna dovrebbe esserci ancora qualche altra cosa sì un'altra novità è questo della linea love è un balsamo universale concentrato per tutta la famiglia eccolo qua ecco questo piccolo balsamo questo è a 100% anche di origine naturale e allora contiene burro di karité olio di jojoba e cera carnauba eccoli qua quindi già a parte che questa linea love contiene l'anolina più ci sono tutti questi prodotti di origine naturale inseriti all'interno è veramente ottimo quindi e infatti dice che ha il 35% di lanolina di qualità parmaceutica e quindi qua anche indicato perché a cosa serve questo balsamo qui ecco c'è il disegno quindi fa vedere che si può utilizzare sulle mani sui gomiti sui ginocchi sulle labbra sui piedi insomma nelle parti un po' più ruide del corpo dove abbiamo bisogno di questo balsamo per appunto levitare la nostra pelle poi vediamo cos'altro c'è di novità si aggiunge una lista di dentifrici un altro dentifricio questi sono a base di ossigeno la novità c'è quest'altro dentifricio che ha qualche particolarità e al cedro quindi un altro particolare questo che serve per la carie e malattie gengivali quindi si aggiunge questi sono fantastici questi prodotti e costano 1,59 euro hanno dei prezzi anche vantaggiosi va bene credo di avervi mostrato tutte le novità spero di sì non sietemi dimenticata niente e comunque se volete vedere il catalogo chiedetemelo ve lo posso mandare anche online così potete darci un'occhiata quindi mi ricordo la promozione per chi si iscrive in questa campagna avrà subito il 20% di sconto e oltre ad avere invece questa possibilità di poter avere nella campagna successiva questo regalo di benvenuto questa palette di rossetti e questo mascara quindi se vi fa piacere iscrivetevi e io vi darò tutte le informazioni che vi serviranno ciao grazie per aver visto questo video grazie alla prossima ciao ciao